Ma sempre ombre! Dove sono le esperienze che girai, ricche di ombre profonde e leggere, ma sempre ombre? La terza età mi minaccia e sono stanco dei viaggi nelle isole pagane e delle avventure effimere di corpi. A che mi è servito tutto questo gira-gira? Commento. Ad essere ciò che sei illusoriamente diventato, tutte le esperienze che hai girato erano già nell'eterno presente e il tuo sentire le ha attivate, rendendoti consapevole di esse.